c'è un tizio c'è ma non mi interessa gabriel basta di che c'è un tizio vuoi da qualche parte cazzo si ce l'ho mili canepica che cazzo me le faccio io vabbè ma perchè mi danno il fucile da caccio fa schifo come faccio a fare a uccidere i cristiani da vicino con il fucile da caccia e con la r dai da un po nome del popolo al sacerdale caccia di nuovo questo c'è la caccia di nuovo metraglietta fino a posso venire da te perchè dovresti venire perchè ho paura che bruci ma tu ce l'ha la r si arriva un amico cazzo sto correndo sto correndo sto correndo cazzo spazio portato gabriel sto correndo io sto correndo dai è giorgio questo giorgio 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 fortissimo solo che io non ho pompa ci sono forse la mi dai un po' un po' di colpi piccoli che c'ho la mitraglietta aspetta minchia quanti scudi che bello essere c'è oh che cazzo è successo mamma mia tutta mia tutta mia o la 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 dove sei legato tutto tu non c'è niente oh il mio c'era due io come due mio l'altro non ci sia tutti e due io oh guarda come ci frega tutto dammi gli scudi e io che cazzo mi prendo c'è n'è un altro di scudo ah che cattivo oh oh dammi colpi della r del pompa corri e ti doi così piccoli sì colpi della r continui hai colpi della r 44 e del pompa io non ne ho pompa io ho il colpo pompa 18 4 e un colpi piccoli tieni c'ho la mitraglietta eh ma io c'ho la miniganna no io c'ho la miniganna appazienza oh dai 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 senza eh dammene un po' cazzo c'ho la miniganna colpi piccoli eh c'ho una merda di scudo va bene cazzo mine materiali merda vieni che prendono a lottare non lottare vai troppo vieni aspetta aspetta vai lottare questa cosa qua e io vado a lottare qui questo è natal tizio a lottare allora devo quelle allora vai al camion vai al camion vai al camion credo aspetta prova a vedere l'ho trovato vado al camion vai al camion vai al camion come dov'è? come dov'è? eccolo l'ho trovato la safe unico eh non so dove vado al camion ah no hai lottato vieni camion vai al camion forse faccio prima io vado io Gabriele tu cominci a andare in safe vai in safe vado io tanto se esce qualche shield te lo vengo a portare non fa niente c'è uno spazio e ho ormai sono diventati il trovatore di lama mi termini da lento che venga a portare no no la voglio no yao cosa non lo voglio no no la voglio ma ce l'hai già tu ma che cazzo mi vedevo favori poi c'ho già la mitraglietta non posso sprecare colpi a profusione ma le faccio double minigone vabbè se basta oh ma tirano granate oh cazzo è oh da dove mi hai fatto per gli anni infarto ricordo ma non lo so chi? che cosa? tu l'hai tirata che c... da dove è? no no che cazzo vuoi da noi ma che cazzo ma si incazza con me? mua e che cazzo l'ha tirata la grana? che ne so io? e va beh no rito perché poveri ne soffriate l'infarto cecchino c'è la cassa e mezzone mica nooo nooo 300 i Podoo 300 di legna a pompa tattico blu cazzo no 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 sì un cazzo sì 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 ma devo fermare materiale no sì sì lo prendo apro la cassa pompa tanti con blu ore ma guarda che pompa lo sai che pompa non si possono trovare nelle casse nabbo cerchi nata o meno di lanciarazzi che ci posso fare niente sì ma allora tu vai a prima della brutta dove apprende la cassa in mezzo al lago fai bene non ti preoccupare ha fatto dove cazzo sei amato se la video di farmi chiestavo prendi quello nicola ci sono dei tizi a sud ok preso il pompa ciò a me stanno sparando tra di loro se riuscendo veni in se fino no no guarda che può essere no non ce la fai avevo trovato in assoluto ma tu insieme a lui vai nel lago a prendere la cassa grazie che molto scusami e logico cosa è logico che muoio tutto tutto un attimo che c'è oh mio dio oh mio dio cazzo che loot modo guarda caprile quanti sono che cazzo è vedete un po vedete un po a destra è sto meno ah no 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 c'è la surf aspetta ah ok grazie cazzo no vabbè che loot gabrile no vabbè che cazzo è qua abiti tutto si capisce niente cazzo è c'era un lanciarazzile c'è blu mezzo all'anno vabbè ma non me ne fotte prendi il legno prendi tutto prendi mattona prendi ma dopo che le loot è vero ci sono pozzette o sì sì ma no e no però spero il metallo il metallo aspetta due scudi no nel periodo di scudi anzi no ma c'ho la minica cazzo me ne faccio e piglia le gli altri scudi o dove non c'è nessuno ne ho due capriano 10 10 ne odio ne ho 10 che madonna sono detto che io sì sì dopo tre anni no lascia che tieni ma c'è tutto no 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 lascia lasciare pozzette no 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 sto scherzando mettono almeno che inti la trappola il 2 babe lancia cioè io certo cielo già no non l'occorro che l'ho comprata али comprate f ein pozzamina che ne sapevo Minchia Gabriella che loot c'ho Ah ma se no Mi bevo lo scudo E mi vado a prendere il cecchino Così me ne rimane uno di scudo Sì sì facciamo così Vado a prendere il cecchino Tanto sei scarso Esatto Ma è buggatissimo Oh ma cadi Ok Cazzo Mi ha votato tutto E tutto questo non c'è manco uno scar Vabbè temi la r blue Eh per dirti là c'era un loot Vabbè almeno è la r blue Ma L'hai tancato No Non so il motivo Vabbè ok Che gioco di me No no non mi direi che a me No Zitto un po' zitto un po' No devi staccarti le cuffie Gabriella No 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 raga lo vogliono fa' Alla prossima. Eh, che palle, però. Ti ho romputo quello là, oh? Ciao, amico. Eh, ciao al cazzo. Che è successo? Quanti materiali hai? Giusto. Vai, ma, io. Dimmi solo tanti o pochi. Tanti. Meno male. Qua ti esce e lancia razzi leggendario. Te lo dico io. Oh, mi hai muoviti. Quanto cazzo è lento? Non l'ha veramente. Oh, io. Ma che cazzo. Mi devi avericurdo. Grande, gra. Questo mi serviva un botto, mamma mia. Grande. Meno male che c'era questo, che prima è perché... Ah, ma che è successo? Ma d'hanno sparato. Sì. Col cecchino. Ma che cazzo è successo? Ma da dove? Da sopra, guarda. Vieni di la trappola, la trappola. Che troppa. Va bene, ho sei. Eh, più una fa sette. O più due. No, no, con quella ho sei. Ah, ok. Ma, ma dare un'altra cecchina. Minca, però, com'è qui bella. Com'è bella, che cazzo. A partita. Vabbè, sei messo bene a studi. No, mi servirebbe un... Nasrurp. Vabbè, sì. Ma pure un medico. E' già evitato. Eh, no, vabbè, ma perché mi chiamano su tutti? Devo rispondere. A prossimo te lo dico. A prossimo te lo dico. Oh, mi senti? No. Dobria. Allora. la prima parla però la prima parla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro team? Contro un altro team? No, contro uno, contro uno. No, 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 contro due. No, uno l'ho ucciso. C'è un altro ancora il singolo. Ah. Tornano il fortino, sei nel tuo fortino. Fatelo più alto, fatelo più alto. Aspè, che mo' vi dobbiamo vedere la safe, dobbiamo vedere la safe, aspè. No, no, è da te, è da te. Che cazzo lo sai che viene? No, eh, no, io ho, ti lo giuro, ho studiato delle tattiche di fortino. Cioè, io so quando la safe è da te o no. Vabbè. Sì, è tutta una cosa strana, perché c'è tutta una regola di fortino, è strana. L'hai visto il tizio, Nicolò? Cazzo di, c'è nessuno. Eh, là si vissi. Oddio! Cazzo fa? Nicolò ti stava mirando con il cecchino prima. Chi è che l'ha visto? 50, gli ho tolto. Bravo. Mo' ti sparavi. Il tuo forse. Ma fai come il tizio di ieri, io. Oddio. Bravo, bravo, bravo. Ma basta, ho, è ucciso. No, 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 eh, ancora. Ah, mo' sì. Vai, ah. Sì, tu compra un altro. Aspetta, fa una cosa. Cazzo fa, mo'. Cazzo fa, bella. Devo fare una cosa. Mi piaciuta questa cosa. Beh, che... Sì, go. Ehi. Attenzione. Eh, ma sono in due questi. Eh sì, che sì. No, 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 no. No, 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 uno, 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 uno. Sì, sì, scogliere. Grande. Vai, veloce. Copriti, copriti. Bassa, bassa. Lasciò la scelissa, la scelissa. No, no, non c'è più. Sì, non c'è più. Sì, non c'è più. Sì, non c'è più. Sì, 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 no. Vai, lo tolto 90. Bravo. Spara la... Dentro il fortino qua. Porca la sorella brutta, eh. Cazzo spazio. Cazzo stai creando, Nicolazzo. Madonna, Nicolazzo. Cosa cazzo ho fatto? Gesù. Da 6, Nico. Ma che... Ce l'hai un'altra... E la giampa è là, dovuto andare a forza. E non ce l'hai un'altra. Costruisci, ti dico... Eh, bravo, così. Che cazzo sto facendo? Ma che ne so? Ma va. Ah, no, sei in safe qua, Nicolò. Ma è vero, è vero, che cazzo? Eh, ma non ce l'ho so, sono legno. Finiti i materiali. Aspetta, aspetta, fammi fare così. Così almeno lo vedo, li vedo, aspetta. Io devo vedere o no, Gabriele, aspetta. Ma fagli uccidre. No, eh, aspetta, stai zitto. Ah, sai, ho ricaricato la, questo. Mi sa cogliere. Sì, sì, stai caldo. Aspetta, scorditi, non so. Aspetta. No, metti, eh. Mettiti i froroni. Eh, no. Aspetta, sei, basta, aspetta, non basta. Vai, sparano col cerchillo. Basta, rotto. Zitto, 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 per piacere, zitto. Chi l'ha ucciso? Basta. Sta scendendo. Oh, oh, che cazzo, è un muro. Vieni, 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 vieni. Ti fa crollare tutto. Vieni. Ah, ma... Vabbè, no. Invincibile, questo qua. Togli il salbero. No, no. Vabbè cazzo, vabbè cazzo. PEMPERE 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 PEMPERE. E questo lo carico su YouTube, cazzo a me Pempe rempe Allora ragazzi Quanto è kill? Sei Allora ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Tanto devo rimanere sempre io, Gabriele muore sempre Io spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così lasciate un bel pollice su commentate Condividete, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao